L'A400M, il nuovo aereo cargo dell'aeronautica militare francese. Un mostro di acciaio ed elettronica che supera i limiti dei velivoli da trasporto militari. Rispetto al suo predecessore, il mitico Transal ha una maggiore capacità di carico, è più veloce e adatto alle lunghe distanze. È un aereo versatile, in grado di effettuare voli a bassa e ad alta quota, a gran velocità, con un vasto raggio d'azione. È polivalente, può rifornirsi e rifornire fino a due velivoli allo stesso tempo. I suoi tratti distintivi sono i quattro motori turboelica di oltre 5 metri di diametro e 11.000 cavalli. Sono i propulsori più grandi e potenti oggi in uso. Se parlate con qualsiasi pilota, si dirà sorpreso della potenza dei suoi motori, che raggiungono la velocità degli aerei di linea. Erba, ghiaccio e sabbia. L'A400M può atterrare ovunque grazie a un carrello flessibile e resistente. Al giorno d'oggi non ha uguali. In un primo momento si è conformato alle norme civili. E dopo è stato anche adeguato e certificato in base agli standard militari. Carbonio intrecciato, titanio ottenuto dalla stampa in 3D. Questo gioiello, che costa oltre 100 milioni di euro, sfrutta una tecnologia all'avanguardia. Piloti, ingegneri e meccanici ci faranno scoprire tutti i segreti della costruzione di questa nuova stella dei cieli, che affascina le persone comuni e le massime cariche politiche. Questo aereo è la sintesi delle mie letterine a Babbo Natale. Si tratta di un progetto altamente ambizioso. Capace di difendersi dalle minacce e di intervenire in un ambiente ostile, l'A400M ha già dato prova delle sue qualità in Africa e in Medio Oriente. Di recente è stato anche utilizzato nelle Antille per fini umanitari, dopo il passaggio di un terribile uragano. Non c'è dubbio, l'A400M si è guadagnato il titolo di Airbus militare del futuro. 10 settembre 2017, Saint-Martin, Antille francesi. L'isola è stata devastata da Irma, il peggior uragano nella sua storia, con venti a 300 chilometri orari. La tempesta si è da poco placata, ma il velivolo militare A400M è già sulla pista per i primi soccorsi. La priorità è aiutare i 75.000 abitanti e turisti presenti sull'isola. In molti hanno perso tutto. Senza esitare, i soldati scaricano gli aiuti dalla stiva. Il sergente maggiore Freddy e i suoi uomini non hanno un secondo da perdere. Dopo aver scaricato gli aiuti, devono riconfigurare la stiva dell'A400M e convertirlo in un velivolo per il trasporto passeggeri. Sistemiamo la struttura. Riconfiguriamo la stiva con 54 sedili sui lati e 62 al centro, per i passeggeri muniti di bagaglio. Non ci fermeremo un attimo. In pochi minuti vengono posizionate e fissate delle strutture meccaniche leggere. L'A400M si trasforma in un aereo passeggeri con un centinaio di comodissimi posti a sedere. O quasi. Questa versione presenta imbracature, foggia testa e cinture di sicurezza a quattro punti. Quante sono? In tutto 96. 96 persone? Sì. C'è anche un neonato, una donna incinta di quattro mesi e diversi bambini. Perfetto. Al lavoro. Di là. Venite da questa parte per salire. Qualche istante dopo, i passeggeri all'imbarco sono sbalorditi dalle dimensioni del velivolo. Poco prima, la stiva di 340 metri cubi era carica di approvvigionamenti. Ora trasporta circa 100 passeggeri, inclusi i bambini e i loro bagagli. Pronti al decollo? Siamo pronti al decollo. Check. Spinto al massimo della velocità, l'A400M decolla. Decollo effettuato. Passo. I quattro turbopropulsori lavorano a pieno regime. Il velivolo da 130 tonnellate vola ad appena mille metri da terra. È un aereo davvero moderno. Il pilotaggio è molto flessibile. La potenza dei motori è pari a 44.000 cavalli, davvero eccezionale. Percorre lunghe tratte, è molto veloce ed ha una capienza maggiore degli altri velivoli militari da trasporto. In serata o domani mattina saremo sul territorio francese per un volo di 10 ore. Anche meno rispetto ad un aereo di linea. Dopo 49 minuti di volo esatti, il tenente colonnello Maxim arriva in Martinica. Questa volta, per l'arresto completo dell'A400M, basteranno 800 metri. Una delle peculiarità del velivolo è la possibilità di percorrere piste di decollo e atterraggio di una lunghezza ridotta. Per quanto riguarda il vento, mi è già capitato di decollare tranquillamente a 5-600 metri in condizioni particolari, con un aereo leggero e con vento forte. Ma 600-700 metri sono pochissimi con una tale massa e apertura alare. Simili prestazioni sono il frutto di lunghi anni di perfezionamento dell'A400M. L'aereo è il risultato di un impegno ventennale congiunto dell'Europa. All'epoca non si parlava ancora di A400M, bensì di Future Large Aircraft o Grande Aeromobile del Futuro. Nel 1994, al Salone Internazionale dell'Aeronautica di Farnborough, in Gran Bretagna, viene presentato un modello a grandezza naturale. L'Europa concordava sul fatto di volere un aereo che fosse ibrido, che avesse alla base delle capacità tecniche, quali volare a bassa quota, atterrare ovunque e permettere il lancio dei paracadutisti. Ma che fosse anche un aereo strategico e avesse un raggio d'azione e una velocità paragonabile a quelle di un velivolo militare. Alla fine, si è giunti alle specifiche dell'A400M. Si tratta di un aereo che presenta capacità logistiche e tattiche che servono ad evitare il famoso sollevamento delle ruote, che si verifica quando un carico pesante viene trasportato su un velivolo logistico. L'atterraggio è possibile solo su una pista predisposta e c'è bisogno di un altro aereo per spostare le merci quanto più vicino alla piattaforma. Con l'A400M tutto il lavoro si fa in una sola volta. Le dimensioni di questo velivolo sono fisse. La stiva è larga 4 metri, quasi altrettanto alta e lunga oltre 17 metri. In termini di volume potrebbe accogliere un carro armato di media grandezza, un elicottero grande, 116 passeggeri in posizione da trasporto truppe e anche 66 barelle conferiti e un personale medico di 25 persone. Inoltre deve poter trasportare un carico di più di 30 tonnellate con un'autonomia di 4.500 chilometri. Nel 1999 il progetto passato nelle mani dell'Airbus adotta come nome definitivo A400M. L'11 dicembre 2009 il prototipo l'MSN 001 lascia la catena di montaggio di Siviglia ed effettua il volo inaugurale. Ero a Siviglia quando l'aereo è stato consegnato e ovviamente è stato stupendo, davvero incredibile. Era un velivolo molto complesso. Infatti per l'Airbus che non ne aveva mai prodotti non si trattava solo di un prototipo di aereo militare ma era un aereo con dei motori e un'elettronica innovativi e una proiezione particolarmente ampia che copriva l'intero spettro delle missioni di un velivolo militare. Oggi l'MSN 001 ha smesso di volare ed è esposto a Tolusa. Nonostante i costi supplementari e i ritardi di consegna il prototipo lascia il segno in occasione del primo volo. è la concretizzazione di un progetto più che ventennale la costruzione di un aereo dalle capacità e dalle dimensioni mai viste prima. Lungo oltre 45 metri e quasi altrettanto largo. L'estremità dell'impennaggio inoltre presenta una deriva alta quasi 15 metri. Questo velivolo ha effettuato 475 voli di prova e ha permesso di ampliare l'ambito di volo e di spingersi fino a casi estremi come lo stallo. Ha totalizzato circa 1400 ore di test in aria. Oggi l'A400M è conosciuto a livello commerciale come Atlas Atlante. È un riferimento al titano della mitologia greca che sosteneva la volta celeste sulle spalle ma anche un'allusione alla potenza del velivolo. Sotto le ali l'aereo è equipaggiato di 4 motori ad elica i famosi TP-400. In grado di sollevarlo ad oltre 12.000 metri di altezza ognuno di questi motori a turboelica eroga una potenza fenomenale di 11.000 cavalli. È come se l'aereo venisse spinto dall'equivalente di 400 berline. Per perfezionare il TP-400 ci sono voluti quasi 10 anni. Il motore che vediamo pesa circa 2 tonnellate e ha la potenza di un treno ad alta velocità quasi 8.000 cavalli. Un A400M eroga 11.000 cavalli con 4 motori e riesce quindi a trasportare 21 tonnellate di merci su un raggio d'azione di oltre 4.500 chilometri a piano carico e 8.000 se sgombro. Se parlate con qualsiasi pilota si dirà sorpreso della potenza dei suoi motori che raggiungono la velocità degli aerei di linea e oggi hanno una velocità di crociera di quasi 800 chilometri orari. Servono ben 24 mesi per assemblare ogni TP-400. un motore lungo 3 metri e mezzo sviluppa una temperatura interna superiore ai 1200 gradi all'ingresso della turbina. È il motore a turboelica più potente sul mercato. La camera di combustione di un'auto ha le dimensioni di un pugno e se la paragoniamo a quella di un aereo è tutta un'altra storia. Costruire il motore più potente al mondo è di per sé una sfida sommando ogni pezzo ne abbiamo 10.000 e tutto considerato non sono pochi. Nella storia solo i russi hanno costruito un motore a turboelica ossia un turboreatore con le eliche da 11.000 cavalli. Al giorno d'oggi la fabbricazione di un motore performante con controllo digitale e una simile potenza e in serie limitate è un'attività davvero azzardata. Un altro fattore determinante è il concetto di pale discendenti conosciuto anche come DBI. Di fatto i motori turboelica TP400 presenti sulle ali impediscono alle eliche di ruotare nello stesso verso spingendole in direzioni opposte. Il movimento circolare delle eliche determina la direzione di rotazione del motore e crea una deriva. Immaginate che se i quattro motori da 11.000 cavalli ruotassero nello stesso senso la deriva dell'aereo diventerebbe significativa e l'aereo tenderebbe a decollare obliquo. Una soluzione adeguata potrebbe essere una pinna una deriva importante e voluminosa. Il problema è che la grandezza è direttamente proporzionale al peso. Quindi Airbus ha pensato di costruire quattro motori controrotanti ossia due motori per lato che ruotano in senso orario e anti-orario andando così ad annullare l'effetto della coppia a ridurre le dimensioni della pinna e a guadagnare peso. Il vantaggio di avere delle turboeliche controrotanti è la perfetta simmetria dell'aereo. In aeronautica avere un velivolo che vola in modo simmetrico è sempre interessante in termini di performance. Non è solo il semplice fatto di volare come su un aliante che di solito è un riferimento per i piloti. La prima cosa è volare in modo simmetrico e questo aereo lo fa spontaneamente. L'A400M è diretto a Siviglia presso la sede dell'Airbus dove una cinquantina di questi giganti del cielo è già stata consegnata a Germania Gran Bretagna Spagna Turchia Malesia e Francia. L'assemblaggio dei velivoli si basa sull'organizzazione pensata per gli aerei di linea dell'Airbus. Questo cargo gigante il Beluga trasporta le componenti del velivolo da tutta Europa. I pezzi recapitati pesano diverse tonnellate e raggiungono i 40 metri di lunghezza. La cabina di pilotaggio il timone e il carrello d'atterraggio sono prodotti in Francia mentre la fusoliera principale e la deriva in Germania. Le ali invece vengono prodotte per lo più in Gran Bretagna. L'A400M è un'immensa catena di montaggio europea. Nicola Pujot è il responsabile della produzione a Siviglia. Da questo lato abbiamo la stazione in cui avviene l'assemblaggio della parte anteriore e della fusoliera posteriore. La giuntura avviene tramite un robot orbitale che vediamo sui nastri. Deve forare e rivettare la fusoliera. In questa fase delicata ha luogo il posizionamento del gigantesco impennaggio che garantisce stabilità in volo. Da solo è lungo 11 metri. Questa è una delle caratteristiche dell'A400M un velivolo compatto robusto detto ad ala alta. Una particolarità di questo programma di assemblaggio in confronto ad altri progetti è che l'ala si trova sopra e non sotto la fusoliera. Rispetto alla maggior parte degli aerei di linea equipaggiati con ali basse come l'A380 questo velivolo presenta delle ali alte. Questa caratteristica ha uno scopo principale permettere all'aereo di avere dei motori più alti e quindi più distaccati dal suolo. Ciò consente di limitare i danni provocati dalla sabbia o dalle rocce presenti su piste d'atterraggio in terra. Le dimensioni della presa d'aria esaltano un simile vantaggio perché sono inferiori nelle turboeliche dell'A400M rispetto a quelle nei turbogetti. L'aria entra da questa parte mentre l'elica si trova davanti. La turboelica infatti consente l'atterraggio e il decollo su piste ristrette ma soprattutto la grandezza della presa d'aria evita l'aspirazione di polvere e sassi durante l'atterraggio su una pista improvvisata in Africa ad esempio tanto più che l'elica disperderebbe la sabbia mentre un turbogetto resterebbe esposto dato che l'afflusso dell'aria sarebbe maggiore. Per verificare le capacità dell'A400M l'Airbus ha moltiplicato i test sul campo. Da quattro anni l'aereo in grado di atterrare su qualsiasi superficie viene regolarmente testato su diverse tipologie di pista. Le piste degli aeroporti civili sono progettate per accogliere centinaia migliaia di aerei al giorno che atterrano in ogni momento. In questo caso pensiamo a piattaforme che non sono mai state pensate per accogliere un velivolo. In alcuni casi è possibile allestire rapidamente delle piste improvvisate in ogni ambiente grazie alle forze terrestri dell'aeronautica. Ma vi sono anche volte in cui l'aereo è costretto ad atterrare su un'area che non è stata neanche approntata. Quando accade il suolo ha un forte impatto sulla struttura del velivolo e l'A400M deve essere pronto per questo atterraggio. Diverso tempo fa ha avuto luogo una dimostrazione concreta. la Royal Air Force in collaborazione con Airbus ha organizzato una campagna di decollo e atterraggio su una spiaggia del Galles. È stata l'occasione per confermare che l'A400M può atterrare con le sue 130 tonnellate anche su una pista di sabbia. Al momento la catena di montaggio dello stabilimento di Siviglia sta incrementando la produzione. Qui vengono costruiti circa 15 A400M per volta. Occorrono sei mesi per terminare l'assemblaggio dell'aereo. Oggi Nicolas Pujot riceve i primi pezzi dell'MSN 085 l'85esimo velivolo costruito nella struttura. Questo aereo è in fase di preparazione. Qui possiamo notare il carrello d'atterraggio su cui stanno montando i portelli per il carrello anteriore. Il carrello d'atterraggio dell'A400M è uno degli elementi più sensibili perché l'aereo di oltre 100 tonnellate deve poter decollare e atterrare su piste anche approssimative. In uno stabilimento nei pressi di Parigi viene riprodotto un carrello d'atterraggio completo dell'A400M a grandezza naturale. I carrelli d'atterraggio si trovano uno a sinistra e l'altro a destra e infatti il cerchio che potete vedere qui somiglia a quello degli aerei di linea eccetto alcune peculiarità dovute allo specifico prototipo da testare. In pratica tutta questa parte è un ammortizzatore che va a comporre le bielle e questo braccio centrale. I freni invece si trovano sotto gli pneumatici in corrispondenza dei cerchioni. Credo che sia proprio la larghezza delle ruote ad occupare l'intero spazio e presenta dei dischi in carbonio di 30-40 centimetri. La tecnologia al carbonio usata sulle auto in termini di diametro è molto simile a questa ma con un solo disco. Con un simile carrello d'atterraggio o meglio con ogni gamba in grado di muoversi in modo indipendente l'A400M riesce ad ammortizzare il dislivello delle piste più disomogenee può quindi arrestarsi su un terreno irregolare e scosceso. Pensate che il carrello è stato pensato come un fuoristrada e talvolta funziona come un 4x4 quando si verifica una variazione tra l'asse anteriore e quello posteriore delle ruote. è un aereo per ogni terreno che infatti riesce ad ammortizzare gli urti e i dislivelli proprio perché deve poter atterrare su piste che non sono necessariamente del tutto piane. Un altro test sul campo l'A400M ha dimostrato di essere in grado di atterrare anche sull'erba. Siamo a Equeri-sur-Col sulla Marna. E' la prima volta che atterriamo sull'erba. La difficoltà principale per il pilota è proprio l'atterraggio. La zona prestabilita è molto stretta a 100 metri di lunghezza. Atterra vi sembra grande ma quando vi avvicinate a più di 200 chilometri orari vi assicuro che è tutta un'altra cosa. Abbiamo dei criteri molto rigidi. Bisogna atterrare nella zona indicata né prima né dopo. E' la prima volta che lo facciamo con un aereo tanto pesante. Siamo arrivati a provare con un peso di 114 tonnellate. Ciò significa che i nostri clienti potranno atterrare su questa pista con un velivolo che ha in stiva un carico di 30 tonnellate. E senza difficoltà anzi anche con un certo margine che ci permette di osare un po' di più. Per circa un mese i decolli e gli atterraggi si ripetono a ciclo continuo. finora abbiamo effettuato in tutto quattro voli eseguendo 15 operazioni di decollo e atterraggio. Abbiamo raccolto molti dati sulle prestazioni del velivolo su questa superficie e a breve rientreremo a Siviglia a bordo di questo stesso aereo. Tutte le informazioni che forniremo verranno successivamente analizzate al fine di poter ottenere a breve delle nuove certificazioni. Pronti al decollo! Per l'A400M ogni certificazione è una vera e propria medaglia al valore. E quale posto migliore di Le Bourget per sfoggiarle? Ogni due anni qui si organizza il più grande raduno aeronautico del mondo. È l'occasione per mostrare ai potenziali acquirenti e al grande pubblico i migliori modelli sul mercato. Come nella precedente edizione l'A400M ha l'onore di inaugurare l'evento con a bordo un passeggero di tutto riguardo il presidente della Repubblica Francese. A un centinaio di metri di distanza nel padiglione dell'Airbus viene esposto un altro A400M con un sistema di artiglieria pesante. Per la dimostrazione con imbarco nella stiva c'è il sergente maggiore Freddy. Hai controllato i freni laterali e hai chiuso il portellone? Perfetto. Insieme alla squadra si prepara a dare prova della enorme capacità tecnica del velivolo. Nella stiva viene caricato un Cesar un autocarro di 22 tonnellate con tanto di cannone. Con i suoi 3 metri e 70 di altezza il Cesar sembra a malapena entrare nel velivolo ma in realtà c'è molto più spazio di quanto si pensi. Se vediamo che c'è il rischio che tocchi il telaio andremo ad abbassare la stiva e la rampa per rendere la pendenza meno ripida. In questo modo il veicolo potrà entrare senza urtare l'interno della fusoliera. Questa funzione presente sull'A400M prende il nome di abbassamento. Grazie a dei martinetti idraulici con una capacità di 30 tonnellate il dispositivo permette al retro del velivolo di abbassarsi leggermente facilitando il carico e lo scarico di merci ingombranti. L'A400M combina le capacità di trasporto tattiche e strategiche ed è in grado di realizzare i rifornimenti in buco. Nel frattempo l'A400M si esibisce nei cieli di Le Bourget suscitando una certa ammirazione nel pubblico. La possibilità di un rifornimento a 3G ci troviamo le esercitazioni dei piloti di trasporto prevedono anche atterraggi con inclinazioni molto ripide. Salgono ad alta quota e riscendono all'improvviso per restare esposti il meno possibile e lo stesso vale per il decollo. Si parte dal basso per salire sempre più velocemente. Presenta inoltre la capacità di frenata in discesa che risulta superiore grazie all'elica quindi su terreni circondati da montagne si possono verificare dei picchi di discesa più elevati con un'elica che con un turbogetto. Le turboeliche sono il frutto di un lungo lavoro. Vengono progettate a Fijac nel sud ovest della Francia dall'azienda leader nel settore. Ogni pala misura oltre due metri di lunghezza. la base metallica prende il nome di tulipano. Il resto è detto longherone. Questi longheroni in resina devono restare tre ore in forno prima di essere estratti dallo stampo. Vengono attentamente levigati per rimuovere la minima imperfezione. È la fase chiave. Le pale vengono lavorate da questo robot davanti a una macchina circolare di 4 metri di diametro usata nell'industria tessile. è una trecciatrice che ricopre gradualmente le pale con dei fili intrecciati. Quella è la tracciatrice. Hanno posizionato il longherone. Un mio collega verrà ad attaccare il pezzo prima che inizi ad intrecciare l'elica. Come vedete vi sono diverse bobine. Alcune ruotano in senso orario e altre ovviamente in senso anti-orario e finiscono con lo sovrapporsi. È una sorta di intreccio semplice con degli angoli più o meno regolari. In questo modo ogni pala viene successivamente ricoperta da due o tre strati di carbonio intrecciato che incrementano la resistenza dei lungheroni e ne mantengono la flessibilità grazie alle proprietà del carbonio. in un diverso reparto dello stabilimento altre squadre si occupano di un enorme pezzo nero di materiale composito che viene collocato sul mozzo centrale dell'elica. Qui possiamo osservare uno spinner dell'elica e sui vecchi aerei lo si chiamava spesso casseruola e la parte è situata al centro dell'elica da cui fuoriescono le pale questo rende l'idea della grandezza reale parliamo di un mozzo di oltre un metro di diametro sull'elica lo spinner ha una funzione aerodinamica al centro di un'elica di 5 metri e mezzo di diametro la particolarità di queste eliche è che sono così grandi che in pratica è impossibile caricarle su un camion siamo obbligati ad assemblarle davanti all'aereo all'interno del sito di installazione finale una volta consegnate separatamente al sito di assemblaggio finale di Siviglia le eliche vengono montate una ad una accanto all'A400M ogni pala pesa circa 60 kg e costa decine di migliaia di euro vengono quindi fatte scivolare con attenzione una dopo l'altra nel mozzo centrale dell'elica vengono inserite con un martinetto a una pressione fenomenale 160 bar quando apriamo il rubinetto di casa abbiamo tre bar ovviamente sono abbastanza pochi qui in fabbrica invece sono 160 questa pressione fortissima è indispensabile per fissare le pale dell'elica altrimenti a causa della resistenza dell'aria le pale potrebbero lacerarsi in volo ancora inoltre rispetto ai modelli precedenti quest'elica ha un vantaggio non indifferente il pregio di quest'elica è che possiamo sostituirla direttamente sul velivolo dopo che è stata montata sul motore possiamo farlo anche nel deserto servono degli utensili specifici ma è comunque possibile se pensiamo al nonno dell'A400M il Transal dovevi smontare tutta l'elica per sostituire una pala la riparazione è più facile rispetto a quella delle eliche metalliche di una volta è molto più semplice aggiungere altro materiale su un'elica in composito che su un'elica tutta di metallo quindi di fatto abbiamo delle eliche che si possono riparare sul campo un altro punto a suo favore le eliche possono ruotare molto velocemente fino a 800 giri al minuto e in più le pale girano lungo il proprio asse in funzione della potenza desiderata dal pilota quando sostituiamo il passo dell'elica modifichiamo anche il suo profilo e quello del getto dell'aria andando ad aumentare o diminuire la trazione anteriore in pratica giochiamo sul giro del motore e sull'orientamento delle pale per influenzare la velocità e quindi la resa dell'elica in questo modo a una maggiore rotazione delle pale corrisponde una trazione superiore è un velivolo enorme su cui è possibile collocare diversi sistemi di controllo e per un ingegnere collaudatore è fondamentale avere accesso al maggior numero di informazioni in tempo reale infatti sugli aerei come il 15A lo spazio per le stazioni di controllo è limitato ed è più difficile farsi un'idea sul momento dal nord Europa ai deserti roventi l'A400M ha affrontato le condizioni più svariate ed estreme possibili in questo modo gli esperti possono determinare i limiti che presenta il velivolo l'aeronautica dispone di esperti che possono vagliare un terreno e stabilire se l'aereo può atterrare o meno a prescindere dalle sue capacità per via del fango o della sabbia cedevole in pratica bisogna definire i parametri e anche i limiti dell'aereo in base alle diverse tipologie di terreno i test che vengono fatti servono proprio a questo tutti i test eseguiti sul campo hanno inoltre permesso di affinare dei dispositivi particolari di cui oggi è dotato l'A400M stiamo parlando della RAT-DOOR situata tra due piccole alette appena sopra il carrello d'atterraggio principale questo portello si apre in questo modo e l'elica viene spiegata grazie ad un braccio flessibile come una turbina eolica io come altri non l'ho mai utilizzata ma è prevista su questo aereo perché ha bisogno di elettricità per volare e non possiamo di certo fare affidamento solo sulle batterie come nei velivoli di vecchia generazione questo nuovo dispositivo già molto usato sugli aerei di linea offre quindi la possibilità di generare elettricità la produzione ha avuto la brillante idea di recuperare dagli aerei di linea le migliori soluzioni testate ma anche di appropriarsi delle idee sviluppate per i velivoli militari così da migliorarne le capacità tattiche e questo è un ottimo esempio di quanto detto l'Airbus è stata ingegnosa nel montare questo deflettore è un pannello forato che si spiega aprendo un portello quello destinato ai paracadutisti e che va più che a fermare direi ad attenuare la corrente d'aria su questa zona questo permette all'A400M di lanciare fino a 116 paracadutisti dai due portelli laterali di recente l'Airbus ha autorizzato un nuovo dispositivo dell'A400M attenti alle vertigini per vederlo è necessario salire in alto a 15 metri da terra nella fabbrica di Siviglia sulla punta dell'ala vedete quella specie di funghi? fanno parte del rilevatore missilistico sono dei radar è l'autodifesa grazie ai radar l'A400M può individuare qualsiasi missile a diversi chilometri di distanza abbiamo molte minacce vi sono quelle di natura terroristica con i missili terraria che hanno una gittata ridotta dai 3 ai 5 chilometri al massimo poi vi sono le minacce aeree ovvero quelle portate dai caccia che colpiscono gli aerei da trasporto e al giorno d'oggi questi ultimi devono essere in grado di proteggersi senza dover essere scortati da un aereo da caccia che possa assicurare la protezione per questo ci sono i razzi di segnalazione o flare sono contromisure concepite nel sud ovest della Francia un caccia può essere dotato di una quarantina o una sessantina di questi razzi ma per rendere l'idea su un A400M ve ne sono 700 trattandosi di un aereo capirete che può decollare nel deserto con una temperatura di circa 50 gradi e poi sale a una quota in cui le temperature sono a 50 60 gradi sotto zero in qualsiasi tipo di ambiente deve funzionare e rispondere alle esigenze operazionali dal primo all'ultimo giorno alla fine c'è in gioco l'incolumità del velivolo e dei passeggeri e non sono ammessi errori i flare servono a proteggere il velivolo soprattutto quando è più esposto al decollo e all'atterraggio ma anche durante i lanci nel momento del lancio del carico o delle truppe l'aereo raggiunge una certa velocità parliamo di 250 km orari mentre l'altezza può variare dai 250 ai 300 metri è minima quindi il velivolo risulta estremamente vulnerabile ed è allora che bisogna proteggerlo anche ricorrendo ai flare in questa fase l'aereo è molto esposto perché bisogna mantenere la rotta e cercare di lanciare quanti più paracadutisti possibili in un'area ristretta è importante avere un sistema di difesa che ci avverte se siamo un bersaglio perché l'aereo non può effettuare una manovra evasiva tipo un rapido cambiamento di rotta durante il lancio dei paracadutisti i flare sono composti da una miscela di polveri altamente infiammabili e non devono danneggiare il velivolo nelle fasi di lancio vengono quindi testati ricreando a terra le stesse condizioni presenti in volo 3 2 1 lancio i flare possono essere sganciati manualmente ma spesso si ricorre alla procedura automatica perché il destino dell'aereo si gioca in pochi secondi l'80-90% delle minacce oggi proviene dai manpads simili ai lanciarazzi sono dei dispositivi sofisticati intelligenti del tipo spara e dimentica quindi si mira si fa fuoco e si lascia che il missile si diriga verso il bersaglio e l'unica possibile difesa sono appunto i flare i manpads generalmente vengono lanciati a vista quindi il missile percorre un centinaio di metri in pochi secondi allora il sistema deve essere in grado di reagire molto velocemente pertanto questi impianti sono in parte automatizzati alcuni piloti mi hanno raccontato che durante l'operazione Barkan il sistema si è attivato da solo perché aveva rilevato una possibile minaccia anche se loro non avevano visto da dove provenisse né avevano avuto la conferma visiva di essere effettivamente un bersaglio in quel momento torniamo sulla pista dell'aeroporto di Siviglia dove sta per accadere un evento raro un A400M precisamente un MSN 0062 sta per essere consegnato all'aeronautica prima del decollo i militari lo riforniscono con l'equipaggiamento necessario si tratta degli accessori per le diverse configurazioni che restano imballati nelle casse su dei bancali le casse più grandi messe in fondo contengono i sedili della sezione centrale per trasportare i passeggeri al centro della stiva aggiungendo altre due file dopo aver caricato i nove bancali per un totale di 34 tonnellate il capo delle operazioni Cyril effettua un ultimo controllo perché è aperto? è anche l'occasione per verificare le piccole comodità qui abbiamo due urinatoi perfetto questo invece è il serbatoio d'acqua che permette di alimentare questo lavabo per lavarsi le mani quando si vola per otto ore di fila si ha diritto a un minimo di comodità è naturale Cyril è anche il responsabile della stiva si occupa di tutto ciò che si trova a bordo in caso di carico scarico e lancio in volo per lui questo velivolo ha un grosso vantaggio guardate il carico attuale qualsiasi cosa dovesse succedere nel retro è impossibile notarlo però premendo un pulsante riesco a vedere cosa succede in fondo al velivolo posso selezionare la telecamera questa qui è la rampa immaginate di avere un carico che dovete lanciare in questo modo potete supervisionare l'operazione sugli aerei di vecchia generazione se si voleva verificare un sistema bisognava andare di persona dove si trovava qui invece è possibile centralizzare una grande quantità di informazioni facilitando la comunicazione con l'equipaggio di cabina l'equipaggio di cabina è infatti posizionato in alto nella cabina di pilotaggio il comandante di bordo verifica il programma di volo dell'aereo che controlla con un semplice joystick posso pilotare l'aereo grazie a un controller laterale e infatti ho l'impressione di condurre un velivolo di piccole dimensioni con un joystick minuscolo mentre in realtà è enorme e arriva a pesare 141 tonnellate primo pomeriggio l'MS0062 lascia Siviglia direzione la base aerea 123 vicino ad Orlean a 1600 chilometri da qui il dodicesimo A400M dell'aeronautica si alza in volo per la prima volta in linea di massima è come un Rafale o un aereo di quella generazione i sistemi infatti si somigliano se effettuiamo un rifornimento in volo possiamo vedere sul video gli aerei che si avvicinano per farlo è davvero fantastico il rifornimento è tra gli ultimi potenziamenti dell'A400M all'estremità di ogni ala l'aereo è dotato di un pod si tratta di un impianto che permette di rifornire in volo due aerei caccia è un nuovo sistema che affianca quello finora in uso posto sotto la fusoliera abbiamo la possibilità di far funzionare tre punti di rifornimento due sotto le ali e uno sotto la fusoliera ciò ci permette di approvvigionare sia i caccia che le porta aerei l'A400M è polivalente può rifornire o rifornirsi grazie all'asta sotto la cabina di pilotaggio la quantità di kerosene è molto elevata oltre 2000 litri al minuto in pratica basta per fare il pieno a 40 auto in un minuto un esempio è stata la missione partita dalla Francia per consegnare 20 tonnellate di merci è possibile aumentare l'autonomia dell'aereo facendo un pieno in volo diciamo all'altezza di Abu Dhabi in questo modo si può volare senza scalo fino a Jakarta in pratica possiamo andare ai quattro angoli del pianeta senza fare scalo il vantaggio di questa configurazione con le eliche è che permette di rifornire i caccia e anche gli elicotteri a bassa velocità mentre non si potrebbe fare con i turbojetti per l'A400M la funzione di rifornimento viene innestata sul circuito di distribuzione del cherosene un circuito su cui da qualche mese troviamo una componente in titanio che da sola è già un piccolo miracolo questo elemento estremamente solido grazie alle proprietà del titanio viene prodotto con una stampante 3D serve ad orientare correttamente il carburante del velivolo viene fabbricato qui in uno stabilimento nel nord della Germania questo hangar di una pulizia quasi maniacale ospita le stampanti 3D grazie a dei laser ultra precisi le componenti in titanio vengono create uno strato alla volta a partire da una polvere sottilissima questa è polvere di titanio i granelli misurano tra i 20 e i 65 micron si tratta di un materiale estremamente fine e bisogna stare attenti perché brucia la pelle bastano poche ore per stampare integralmente le componenti in titanio dopo anni di ricerca questo processo tecnologico è stato approvato a livello industriale ancora oggi la stampa 3D è difficile da padroneggiare ma quando succede permette di realizzare dei pezzi sagomati con una precisione mai raggiunta prima qui abbiamo un esempio di blocco in acciaio o in titanio massiccio che abbiamo saldato e forato con estrema precisione in modo abbastanza facile e veloce rispettando la geometria del progetto in modo assoluto questo pezzo invece è stato ottenuto con la stampa 3D quindi è molto diverso è possibile ottimizzare la forma dei tubi in base alle necessità e senza sprecare il metallo superfluo queste due componenti hanno esattamente la stessa funzione e le stesse proprietà statiche e dinamiche hanno caratteristiche identiche tranne il peso prendiamo la variante convenzionale quella in metallo lavorato pesa più di 2,5 kg ora confrontiamola con il pezzo realizzato con la stampante 3D siamo intorno a 0,8 kg potrebbe sembrare una differenza insignificante ma alla fine della carriera di un aereo vi farebbe risparmiare 300.000 tonnellate di CO2 ed è proprio questo il nostro obiettivo consumare meno carburante per l'ambiente e allo stesso tempo ridurre i costi di produzione l'A400M è uno dei primi velivoli nel mondo a beneficiare delle componenti ottenute dalla stampa 3D è una tecnologia promettente che è appena agli inizi dopo un volo di oltre due ore l'MSN 0062 sta per atterrare ad Orléans la base aerea degli A400M militari il nuovo velivolo dell'aeronautica francese riceve un benvenuto bagnato come da tradizione è così che battezziamo gli aerei dal più piccolo al più grande che sia un caccia o un aereo da trasporto è come accogliere un neonato alla base con questo nuovo aereo l'aeronautica conta ora su 12 A400M anzi 13 con l'arrivo di un altro velivolo in totale la Francia disporrà di 50 aerei sufficienti a trasportare oltre 5.000 uomini o 1.500 tonnellate di carico in tutto il mondo la 400M sta trasformando le modalità di lavoro perché può trasportare di fatto circa il doppio di un transal è due volte più veloce e va più lontano rivoluzionerà completamente le capacità di trasporto dell'aeronautica francese ad appena 4 anni dalla prima consegna questo aereo cargo veloce quasi quanto un aereo di linea serve nell'esercito di otto paesi è il futuro non abbiamo scelta bisogna costruire l'europa e anche la sua difesa i programmi militari nazionali su vasta scala appartengono al passato l'A400M è parte integrante delle forze aeree è dotato di radio e apparecchiature che facilitano la comunicazione con i Rafale gli AWOX e i sistemi delle forze terrestri prima c'era una separazione tra caccia aerei da trasporto ora sono interconnessi perché non dovremmo usarlo per gestire una flotta di droni durante una missione d'attacco oppure ad esempio per effettuare un pattugliamento marittimo allo stesso modo potrebbe essere utilizzato anche per contrastare eventuali minacce che arrivano dallo spazio l'A400M sta riscrivendo il futuro dell'aeronautica militare è una vera svolta per le forze aeree a meno di 30 anni dai primi progetti l'A400M è ormai operativo per gli eserciti che se ne avvalgono è efficace e multifunzione questo velivolo da trasporto con prestazioni da avioggetto è pronto a rivoluzionare le forze aeree più avanzate l'A400M l'A400M particolare sul ci l'A trembителя 2 1 2 2 어렵 Car